Terra Amara La terribile vendetta di Unkar contro Sermin Ciao amiche e benvenute sul mio canale Parliamo delle anticipazioni della serie Terra Amara Finalmente la vendetta di Unkar riuscirà a manifestarsi contro la sua odiata nipote Sermin che gliene fa sempre una più del diavolo e infatti andremo a vedere come lei ha pianificato tutto per poterla incastrare e farla così arrestare ma prima di iniziare a guardare il video se ti piacciono i miei contenuti e li trovi interessanti lasciami un like ed iscriviti al canale per te non è nulla ma per me è molto importante allora iniziamo Unkar Yaman, la matriarca di Kukurova è in procinto di mettere in atto la sua vendetta contro Sermin infatti Unkar arriverà a far arrestare la nipote per fargliela pagare per aver inchiestrato Demir nell'omicidio di Jean Gavier Ma ben presto, grazie a una relazione clandestina tra Sermin e Atip Tellider che è un nuovo personaggio che entrerà tra poco nella storia della telenovela verrà fuori la verità sulla morte del povero Jean Gavier Atip è il vero assassino di Jean Gavier Atip per poter vedere in segreto la sua amante Sermin le metterà a disposizione una casa nascosta una piccola casetta che lui si è fatto dare disponibile per potersi incontrare senza essere scoperti da nessuno ma questa informazione verrà intercettata da Sarnier che informerà immediatamente Nasi la moglie di Atip che non è certo una tipa che va per lei sottile ed è proprio grazie all'intercettazione di Sarnier che Unkar scoprirà la verità su Atip e potrà finalmente farla pagare cara alla nipote Sermin tenetevi pronti a una trama intensa ed avvincente Sermin otterrà da Atip una piccola chiesa dove potrà vivere e dove poter liberamente incontrare così il suo amante nascosta da tutti per non essere arrestati per adulterio ma l'astuta Sarnier ascoltando di nascosto una conversazione tra le due capirà subito quello che sta succedendo la nuova capomastro correrà subito dalla sua signora ed infine di tutto quello che sta succedendo intorno a loro a questo punto Unkar deciderà di andare da Nasi entriamo un po' più nei dettagli Sarnier, la moglie di Gafur corre da Unkar per rivelare che Sermin ha intrapreso una nuova relazione segreta con lo spietato e potente Atip questo momento era tanto atteso da Unkar poiché vuole vendicare a tutti i costi Demir per le false accuse che le ha fatto Sermin nei suoi confronti per l'omicidio di Jean Gavier e per aver messo in pericolo la sua vita allora l'altrettanto diabolica Unkar decide di dire quello che aveva preso da Sarnier ovvero del tradimento di Atip con Sermin Anna Sier, la moglie di Atip c'è certa che la reazione della donna sarà molto furiosa Unkar allora informa Nasi del tradimento del marito con Sermin mettendo la nipote nei guai come era un suo intento Nasi apprende la sconvolgente notizia e si infuria subito col marito e da questo punto decide di fargliela pagare molto cara chi non si arrabbierebbe di fronte a una notizia del genere e come affronteranno a sé Atip e Sermin per la loro relazione clandestina seguendo la storyline della Sor Turca dopo essere stata bloccata nella sua fuga verso Parigi da un grave incidente d'auto Sermin dicevamo sarà in pericolo di vita grazie a questo incidente ma verrà salvata dal tempestivo intervento di Sabatin e di Mujigan e a questo punto Unkar la costringerà a scagionare il figlio poco dopo Unkar verrà a sapere che la nipote voleva fuggire con i suoi soldi così bloccherà il versamento di denaro lasciandola totalmente a bocca asciutta per questa ragione Sermin sarà costretta a chiedere ospitalità a Sabatin una volta fuori dall'ospedale il suo ex marito ma ben presto il medico si stuferà di averla tra i piedi e quindi la caccerà via senza un tetto sulla testa Sermin si rivolgerà ancora una volta ad Atip convincendolo di non essere stata lei ad averlo tradito e adducendo alla sua tesi il fatto di non averlo denunciato alla guardia civile per scagionare il cucino la moglie di Atip dopo aver scoperto il tradimento del marito Atip con Sermin è in preda all'ira più forte per questo motivo si mette subito all'opera per non fargliela passare liscia anzi Nassie organizza una piccola retata decide cioè di allertare la guardia civile per farli arrestare dimostrandosi una donna molto astuta e competitiva visto che grazie alla sua segnalazione alla guardia civile Atip e Sermin vengono catturati in flagrante infatti Atip e Sermin colti con le mani nel sacco verranno subito arrestati con l'accusa di comportamenti illegali e immorali ovviamente Sermin e Atip si sono ormai nei guai la guardia civile bussa alla porta della loro casa nascosta incutendo timore alla coppia non se lo sarebbero proprio mai aspettati di essere scoperti ma cosa succederà quando i due verranno trovati insieme? Chiaramente i due provano a giustificarsi in tutti i modi sostenendo di essere molto amici ma ciò è tutto inutile perché gli agenti li trovano in biancheria intima e in atteggiamenti che non possono di certo essere fraintesi e che non lasciano alcun dubbio riguardo alla loro relazione e ora cosa succederà? prima di scoprirlo ricordatevi di lasciarmi un like ed iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati la nipote di Uncar Sermin che fino a poco tempo prima di questa vicenda viveva una vita già alta e rispettata ora si ritrova in una situazione disperata e anche molto umiliante circondata da criminali e delinquenti dove la sua reputazione sarà distrutta e la sua vita cambierà da questo momento in poi e infatti Sermin che aveva intrapreso una relazione segreta con Atip Tellider pagherà caro il prezzo di questa situazione e la sua tresca con il potente e spiegato Atip infatti le costerà molto cara portandola a scontare la sua condanna in carcere infatti si ritroverà a condividere la cella con delle prostitute come abbiamo visto in queste anticipazioni di Terramara le prossime puntate saranno cariche di tensione e suspense che vedranno come fatto principale la vicenda di Sermin vittima della propria follia e della vendetta della signora di Cucurova Uncar Yaman ma siete sicuri che finirà così scontando la sua pena in carcere? fateci sapere nei commenti i vostri pensieri lasciate un like e infine iscrivetevi al canale per non perdere nulla di questa bellissima e intrigante serie turca e non solo vi aspettano tante novità ci vediamo al prossimo video grazie a tutti grazie a tutti